Molto presto guarirai da quel dolore che tanto ti fa male, ricorda che sei una bella persona e meriti di essere felice. Quando vai in casa ad altri diventa cieco, quando esci diventa moto. Non cercare difetti, rispetta chi ti ha mostrato la sua umiltà e la sua intimità. Chi ha voluto avere ragione, cerca sempre l'ultima parola. Chi ha davvero ragione, hai smesso di parlare già da un pezzo. La ragione non ha nulla, la ragione si siede e aspetta. Sai una cosa? Puoi passare ore davanti a un specchio a farti bella, ma bella come quando sei felice non lo sarei mai. A volte devi fingerti fesso per capire dove può arrivare la gente che pensa di essere furba. Ogni persona deve guardare per tutta la vita verso quattro direzioni. Di fronte, per sapere dove sta andando. Dietro, per ricordare da dove viene. Sotto, così da non calpestare nessuno. Ai lati, per vedere chi lo accompagna nei momenti difficili. La cattiveria è come una raccomandata. Con la ricevuta di ritorno torna sempre al mittente. Sai, se riuscissimo ad imparare dagli animali come si amano, forse saremmo meno vestiti. Quando le radici sono forti, non c'è motivo di temere il vento. Ho deciso di essere felice, perché fa bene alla mia salute. Ti specchio, specchio delle mie brame. Quando si specchiano certe persone, falli vedere la loro anima infame. Molti fanno finta di volermi bene e io faccio finta di crederli. Sai una cosa? La mancanza di una madre è l'assenza più grande a qualsiasi età. Se ti piace Gia Spagnuolo, metti un like, iscriviti al canale. Grazie! E poi, so che nella vita tutto torna. La cattiveria torna al mittente. L'amore a chi lo ha donato. Le bugie a chi le ha dette. L'invidia a chi è l'assente. Tutto la rota gira per tutti. Non sono né buona né cattiva. Sono come la gente mi fa diventare. Non ho mai scelto la vita facile. Ho sempre scelto ciò che sentivo nel cuore. Perché io vivo di sentimenti, di ciò che provo. Non di opportunismo, non di falsità, di cose semplici, ma vere. Non sono gli anni che fanno invecchiare una persona, ma i dispiaceri. Là dove ci andrebbe la vergogna, la gente ci mette l'arroganza. Il denaro apre tante porte. L'educazione, il rispetto e l'umiltà aprono anche i portoni. Si lasciano mai le case dall'infanzia? Mai rimangono sempre dentro di noi, anche quando non esistono più. Sii umile con i tuoi gesti e le tue azioni. Perché chi sale in alto come una palma può cadere come un cocco. Voi fermatevi pure all'apparenza. Io scendo dopo alla sostanza. Se il passato ti chiama, non rispondere. Non ha nulla di nuovo da dirti. Le persone invidiose sono come i rospi. Hanno grandi occhi per criticare gli altri. E' una lunga lingua per parlare di tutti, ma non si rendono conto di vivere nel fango. Il posto più bello dove siamo stati da piccoli è la casa della nonna. Non direi mai a me non accadrà. Io non lo farei mai perché la vita sa essere imprevedibile e nessuno è immune. La bellezza di ogni donna ha tante forme e tante misure. Ma sarà sempre il cervello a fare la differenza. Empatia è una parola bellissima. Significa sentire la felicità e il dolore dell'altro. Sentirlo nella propria carne. Nella propria persona. Sentirlo nella propria carne. Io ci provo a stare sito. Ma la mia faccia parla per me. Sei il tuo sesto senso. Ti manda senali. Fidati. Lui ha già capito tutto prima di te. Ascoltalo. Lo ringrazzerai. Vive della anche scalzi questa vita. Ma mai in ginocchio. Saranno sempre le nostre azioni a dire chi siamo. Non le parole. Le azioni dicono chi sei. Le parole chi credi di essere. L'amore è l'amicizia e sbocciano dove le persone sono oneste. Nessuno si faccia professore dalla vita altrui. Perché? Per tutti la vita è questa. E sbagliare, cadere, rialzarsi e ricominciare. Il sesto senso non sbaglia mai. Quella sensazione che arriva sotto pelle è sempre quella giusta. Sempre. La fedeltà di un cane ci insegna che l'amore può durare per sempre. Sai? Nella vita bisogna evitare tre figure geometriche. I circoli visiosi. I triangoli amorosi. Elementi quadrati. Le persone e le scarpe vanno trattate allo stesso modo. Quando fanno male, te ne devi liberare. E stanno arrivando cose belle. Te lo prometto. Tieni duro. Non arrenderti mai. Prima o poi, arriva il punto in cui il punto lo metti tu. Grazie mille per restare con JustFanIwal. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Grazie. Restate bene.